Buonasera a tutti amici, amici di Vincite Blogger Valeriani, questa è la faccia del milanista che sta soltanto vincere, sta soltanto vincere, continua, continua anche questo post partita il magic moment del popolo milanista, ribadisco e parliamone, godiamone, viviamolo, perché noi, lo continuerò a dire, siamo la tifoseria più disgustata e schifata degli ultimi anni del gioco del calcio, quindi, cari tifosi del Milan, noi abbiamo bisogno di questa meraviglia che stiamo vivendo, perché grazie a Stefano Pioli, grazie a Zlatan Ibrahimovic, grazie a Simon Gier, grazie al milan nato nel gennaio 2020, come ha detto Stefano Pioli, siamo salvi da quel tedesco pazzo, da quel tedesco indegno, che voleva farci disgustare il gioco del calcio, voleva farci abbandonare, voleva farci non fare portare la squadra in trionfo prima di vincere un derby, quindi, grazie a Dio, quel tedesco pazzo, spero non arrivi mai a disgustarmi il gioco del calcio e a farmi passare la voglia di guardare il mio Milan, quindi, parlando di Celtic Milan, oggi è stata un'altra grande vittoria, costruita nel primo tempo, dove Zio, anche se forse non in una grande serata oggi, Zlatan Ibrahimovic, e detto da me che sono un ibraismo perenne, vuol dire che di calcio qualcosa ne capisco, oggi Zio non era proprio nella sua miglior serata, però è entrato con il suo piedone, ha messo la palla per Teo Hernandez, e poi ha passato Ibrahim Diaz, 2-0, primo tempo tranquillo, primo tempo in controllo, scialla, scialla tranquilla, mentre c'è chi fa schifo col Monge Granbach, noi le squadrette le asfaltiamo e ci passiamo sopra, quindi, primo tempo in tranquillità, 2-0, poi il secondo, abbiamo, ero in diretta con, con Piero Farentini sull'altra piattaforma, i milanisti del web, Radio Roma Libera, quindi ero di là e guardavo un po' la spicciolata della partita, lo saluto Piero, perché lunedì c'è Romina-Roma, lunedì, partita importantissima adesso, e guardando questo secondo tempo, come è uscito Zio, abbiamo preso il gol, non tenavamo più la palla in avanti e abbiamo un po' sofferto, ma ci sta perché il Celtic ha dato tutto per cercare di raddrizzare, ci sta, però abbiamo giocato, poi abbiamo fatto il terzo con l'Auge, tutti a casa, 3-1 e sappiamo soltanto vincere, quindi ribadisco, cari tifosi milanisti, noi dobbiamo godere ogni attimo di questa meravigliosa situazione che stiamo vivendo, perché ci fa bene, ci fa gonfiare il petto, il Milano è tornato, il Milano non perde da tempo in memore che non sappiamo cosa sia la parola sconfitta e anche se dovesse arrivare, siamo comunque in un buon momento, siamo comunque in un magic moment, perché noi dobbiamo essere positivi, dobbiamo vomitare schifo su chi dice che il Milano è da sesto posto, il Milano è cambiato, non è più quella immondizia di Marco Giampaolo, quello schifo da undicesimo posto, il Milano adesso è una squadra che più sta in testa, più vince, più è protagonista, più aumentano di intensità, più aumentano di stimoli, più aumentano di condizione, più aumentano di forza, più diventano consapevoli dei loro mezzi, quindi anche noi dobbiamo diventare più positivi, essere contenti, esserne fieri, essere godiamo come ricci, perché ci fa bene, ci fa bene, perché noi siamo di Baris con gole, lo dico più, la tifusaria più disgustata degli ultimi anni del gioco del pallone e se veniva quel tedesco pazzo, quel tedesco indegno che non è da Milan e neanche da calcio italiano, noi ci disgustavamo e scendavamo in piazza e vomitavamo schifo e lottavamo per non retrocedere, quindi godiamoci ogni minuto che siamo primi in classifica, godiamoci ogni istante, godiamoci la meravigliosa partita che oggi ha fatto per esempio Ibrahim Diaz che è partito un po' strano, poi aveva fatto un bel gol, godiamoci la difesa che ha preso soltanto due gol in 6 o 7 partite, anche se stasera ha fatto un po' le belle statuine su quel colpo di testa, ma qualche errore ci può scappare, ma godiamoci la bella prestazione del centrocampo dove Tonali è partito male ma poi ha giocato una partita di tutto rispetto, godiamoci Frank Chessy che continua a stravaccare, continua a dominare davanti al centrocampo, godiamoci Rade Krunic che era un oggetto misterioso che pareva dovesse andare via, Pioli ha detto no può servire anche Rade, teniamo anche Rade Krunic che può servire, oggi quella ha fatto gol addirittura di testa, che veramente possiamo fare qualcosa di interessante in questa stagione, mettetevi in destra, cari tifosi di avversari, che il Milan non è più quella immondizia di squadra di Marco Giambao, non è più quello schifo di squadra, adesso il Milan è una squadra che più sta in destra e più acquista autostima, cominciano a crederci anche loro, perché potremmo anche non avere la panchina, invece oggi Aug è entrato e ha fatto gol, sono false storie, alla fine le partite si devono vincere, si devono giocare, perché vedi la Zetakmar nascondono sempre delle insidie, quindi non è niente di scritto, il calcio è bello per questo, ma noi milanisti dobbiamo godere di questo momento, non importa fin quando durerà, ma fin quando dura, godetevelo, ma non perché ci siamo montati la testa, perché ci deve far tornare ad amare questo sport, perché il milanista era veramente disgustato, quindi io stasera mi godo ogni attimo, mando ancora a fanguro quell'indegno di Raffrannik, che voleva farmi disgustare il gioco del calcio, perché adesso il Milan è una squadra, adesso il Milan va bene, e adesso il Milan è protagonista, con zio che condiva sciolinare calcio, con Bioli che ha il gruppo in mano, con finalmente positività, positività, ragazzi, positività, io voglio sentire positività, abbiamo dei difetti, ogni tanto ci abbassiamo troppo, quando esce il zio ogni tanto la squadra si abbassa troppo, però guardiamo il bicchiere pieno, colmo, siamo primi in classifica, non perdiamo da tempo in memoria, abbiamo un zio tragotante, abbiamo una squadra che quando decide di far gol lo fa, quando c'è una squadra che è presente, che è bella, che è tranquilla, un ambiente meraviglioso, non vomita schifo contro il suo allenatore, siamo veramente in bomba magna e dobbiamo continuare, fin quando durerà, perché ci fa bene, ci fa bene, perché vedere il Milan là in testa, vedere il Milan protagonista in Europa, è Europa League, non è Champions, però comunque oggi il Milan è tornato due anni, dopo quello schifo di partita con l'Olimpia, costo di due anni fa, dove ci hanno letteralmente buttato fuori dall'Europa per un rigore inventato, è tornato a vincere in Europa, perché se giochi, se hai un'idea di calcio, i risultati arrivano, è quello che è al Milan, il Milan ha un'idea di calcio, ribadisco quello che dico, ha le certezze, e continuo a dirlo, e più va avanti, più queste certezze si rafforzano, perché i giocatori, gli amici, l'appetito viene mangiato, quindi stasera bene tutti, bene tutti, a parte quei 20 minuti in cui è uscito Stata, ne abbiamo preso gol, Aughe che entra e segna, Castiglieco che oggi gioca bene, quando entra Salemegas fa il suo, la squadra è perfetta, così ha un suo senso, i risultati sono questi, i risultati sono questi, quindi cari milanisti, godiamoci ogni istante di questo Magic Moment, perché ci fa bene, godetevelo, lasciate stare gli altri che vomitano schifo, siete da sesto posto, in Dando noi siamo primi, voi avete fatto schifo con Monsignac Bacca, avete perso un derby facendo schifo, con la difesa più rattaccata e con Kolarov difensore centrale, che sono cose che non stanno né in genere né in terra da chi prende 12 milioni, è appreso paga dall'allenatore che ne prende 1 e mezzo, giocando più semplice e facendo le cose che ogni persona con un po' di cervello farebbe, ovvero giocare 4-2-3-1 e mettere Zibreimoci davanti, questo lo farebbero tutti, però Pioli ha avuto il coraggio di farlo, Pioli ha avuto il coraggio di scommettere su questi ragazzi e farlo i suoi, perché la squadra è con Pioli, la squadra voleva la conferma di Pioli, la squadra voleva la conferma di Slatan, perché si è creato un'alchimia, si è creato un gruppo, si è creato gente che rema tutto dalla stessa parte, non si sente più una voce fuori posto, non si sente più niente, e questo è il nostro Milan, è questo che dovete essere orgogliosi del Milan che va prima in campionato e prima in Europa League, ha i suoi difetti, è una squadra ogni tanto che spegne, c'ha delle cose che non vanno, però godiamoci ogni istante di questo magic moment, perché ci fa bene, ci fa bene, perché noi siamo la tifoseria più disgustata del Globo Terraneo, perché il Milanista, dopo lo schifo di Cagliani, lo schifo di Passone, l'immondizia di Giampaolo, l'immondizia di Brocchi, tutto lo schifo degli ultimi anni a parte la Supercoppa di Doha con Montella, è la tifoseria più disgustata del Globo Terraneo, quindi dobbiamo veramente goderci ogni istante di questo momento, ogni istante, ogni vigilia, una partita con la Roma che è fondamentale, non sottrautiamo Zeko, non sottrautiamo Pellegrini, perché vogliamo continuare a stare là, perché poi il Milanista torna a essere quello che sembra è stato e fa paura a tutti, questa squadra dal post lockdown fa paura a tutti, perché è una squadra che se prende ancora più confidenza di se stessa e comincia veramente a cominciare a credere in quello che sta facendo, comincia ad acquisire ancora più consapevolezza, ancora più sicurezza, poi ci cominciamo a divertire, ci cominciamo a divertire, quindi cari tifosi, oggi petto in fuori, siamo tornati a vincere in Europa, siamo primi in classifica ed è il momento più bello degli ultimi anni da quando sono blogger, perché veramente questo è il Milan che in cui io mi riconosco, è un Milan che mi piace, un Milan che zitto lavora, non si, Pioli che sta mantenendo anche un profilo basso perché siamo più e più, ci stiamo forse troppo montando la testa noi tifosi, ma fa bene, lui invece ci tiene sempre sulla corda, sempre lì, sempre, va bene, va bene mister, fai così però facci godere un po' questo magic moment e grazie mister Pioli, io ti chiedo scusa per aver detto Pioli out dopo lo schifo di Bergamo e dopo il primo tempo orrendo con Rio Avedo, hai sbagliato tutto, questo te lo dico proprio col cuore in mano, però ribadisco e chiudo, tifosi, milanisti, godiamoci il momento, stasera con Celtic 3-1 e a casa, c'è chi ha fatto schifo con il Monge in Granbach, io ho vinto con 3-1 e sono andati a casa, il mio girone d'Europa League è quasi un girone di Champions perché Lille è primo in classifica in Francia, il Celtic è da 9 anni campione di Scozia, c'è lo Spartapraga che è una delle squadre con storia e blasone, una squadra sempre difficile e ci siamo noi, quindi un gruppo veramente quasi da Champions League, quindi la mia Europa League potrebbe essere un gruppo di Champions di un certo livello, quindi è Europa anche questo, quindi io sto facendo veramente una meraviglia di inizio stagione e me la voglio, ce la dobbiamo godere tutta, tutta, voglio entusiasmo, voglio vedere proprio entusiasmo a go go, perché se ci tiriamo negatività, se ci tiriamo schifo e immondizia, poi torneremo a fare schifo, a me non mi interessa se vince quello che succederà dopo, io adesso voglio godermi il presente perché ne ho bisogno di questa positività, ne ho bisogno di questo Milan primo in classifica e di questo Milan protagonista in Europa League, ne ho bisogno perché fa bene a tutti, perché noi ne abbiamo viste talmente tante che questo Milan che oggi ha vinto in terra non facile come la terra di Scozia, dove non so per quante squadre possono andare a vincere, la Lazio l'anno scorso ci ha perso, il Celtic Park, quindi cari amici domani è ancora video, perché facciamo le pagelle, ve lo prometto, verso mezzogiorno e continuiamo a cavalcare questa onda di positività, questa onda di meraviglia, perché ci deve far stare bene, milanisti state bene perché avete una squadra, abbiamo una squadra che molti vorrebbero avere e adesso non hanno, una squadra che è prima in classifica e prima in Europa, perché il girone nostro è un girone complicato, è un girone difficile, noi siamo primi, siamo primi, Napoli non è primo, l'Inter non è prima, gli altri hanno sorriso tutti tranne Napoli e Inter, che hanno fatto schifo, questo bisogna dirlo, perché si sono complicati la vita, si sono complicati la vita, quindi guardiamo in casa nostra, ma godiamoci questo momento, godiamocelo tutto, perché ne abbiamo veramente bisogno, ne abbiamo veramente bisogno, perché oggi hanno giocato bene tutti, bene, a me è piaciuto il Brian Dias che ha fatto un bel gol, tutti bene zio, Teo era partito un po', ma tutti bene, tutti per lo stesso obiettivo, tornare in Champions, ma come dice Ibra, io ho un segreto e anch'io ho un segreto, ma dobbiamo costruirlo insieme, tifosi dovete crederci, dobbiamo crederci, perché la squadra deve sentire il nostro entusiasmo, io vi sto stimolando perché voglio vedervi esultare, voglio vedervi, facendo ancora troppo, tanto prima o poi finisce, non finisce se lo vogliamo noi, la squadra deve sentire i nostri, le nostre grida, le nostre meraviglie, quindi ci vediamo domani, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale di MrBlogger Valeriani, hashtag viva il Milan primo, viva il Milan di Stefano Pioli, viva il Magic Moment e andiamo avanti tutti insieme, ciao a tutti.